Non si può fare il fallo al portiere come in FIFA 99 qua? Benvenuti a tutti gli amici di Ribble, oggi andiamo a provare la demo di Pro Evolution Soccer 2016 che non ho ancora provato quindi la provo veramente adesso per la prima volta. Io me ne intendo poco di calcio ma so che è Neymar, quello che fa sempre finta di farsi male. Infatti, c'è che gli danno ogni tanto una legnata. Allora. Casa, sì, sono a casa mia quindi casa. Allora possiamo usare la Juventus, Roma, Bayern München, SC Corinthians, Palmeiras, Brasile e Francia. Beh, io direi allora la Roma contro la Juventus. Impostazioni generali, allora a livello di abilità avversario va bene medio, durata la partita facciamo 7 minuti. Numero di sostituzioni 3, emozioni giocatori. Tipo, no non gioco oggi. Condizioni, ok. Infortuni sì, infortuni sì perché per me i giochi di calcio su console sono come un picchiaduro. No, ok, con Quadrato mi pare si tiri. C'è Buffonka negli occhi da allucinato. C'è Pirlo anche addirittura. Grande Pirlo. Ma non gioca mica più con la Juve. Non gioca proprio più. Vabbè. Naing Golan. Vai. Filtrante per Balzaretti. Beh. Adesso gli tiro una potata. Io da lì avrei cacciato la bomba. Va, sì. E dai, basta. Gervinio, va. Gervinio è forte. Gervinio fa tutto lui. Fa tutto lui, è egoista. Storia di un ragazzo egoista. No, in realtà fa un filtrante per Nargolan. Non ho capito se ho tirato o crossato. Allora. Pjanic la tira Pjanic. Selezione al tiratore. Angolo corto. Così. Beh, ho esagerato. Eh, ciao. Oh, neanche tanto. Ma che forse lo prende? Mamma mia, che recupero. Mom. Mom. Mamma. Questo è da rivedere, guarda. Arriva lunghissimo. La prende al volo. No, non è al volo. Però prima che esca. E questo non so chi fa una rovesciata. Mamma mia. Se andava dentro questo ho vinto. Era Totti. Mamma mia. Totti quasi gollo, chiamavano. Balzaretti. Balzaretti fa tutto da solo. Egoista. No, la passa. E la riprende Balzaretti. Balzaretti va. Va Balzaretti. Beh. Che scarpa. Va Totti. Totti gol. Totti gol. No, ok. Tondo è il cross. Va bene. Pjanic. Pjanic la tira Pjanic. Nargile. Palla per Nargile. Gervinio. Gervinio va. Gervinio. Giugno. Tanto stavo notando non c'è mica la telecronica. Eh, la sto facendo io in pratica. Tjanic. Maicon. Già che c'è anche Maicon. Che una volta era all'Inter. Poi dopo ha detto basta. Vado a vivere a Roma. Maicon. Prima viveva a Inter. Nella città di Inter. Vicino alla città di Juventus. Uff. Ma ho sbagliato tasto. Gol. Proprio mangiato questo. Era già fatto. Via. Via. Eh, sì, vabbè. Più tardi. Chiamalo tra mezz'ora quando ho già vinto. Eh, vediamo. Eh, mamma mia. Ha fatto più male a Maicon che all'avversario. Chitrante che mi sa che è quasi fuori gioco. Bum. Mamma mia. Che palo. Ma porca. Con quale agilità. Guarda che finto. Ma che falso. Parte. Parte Balzaretti. Eh, Gervinio va un po' su però. Eh, vabbè. Ciao. Ciao. Ho proprio capito tutto. Cioè. Sì, non era neanche Mano. No, no. Allora. Pjanic. Pjanic la tocca Pjanic. Eh, no. Vai, Balzaretti. Si prende la palla. Gervinio stavolta c'è. Stavolta c'è. Cross. Paratona di Gigi Buffon. Adesso partono i rasoi però, eh. Ma porca miseria. C'è parte gente che rotola. Ma riprende la partita o... Wow. Non ti meriti di far gol neanche. Eh, non si riesce a prenderla, Pirlo. Non è mica stupido. Mega crossone per nessuno. Mu. No. Non si può fare il fallo al portiere come in FIFA 99 qua. Gervino. Gervino. Mamma mia, Gervino. Che c'ha la fascia che è più grande della testa. Grande Gervino. Oppa là. Grande Buffon. La mitica difesa della Juve. Boom. Che abbiamo visto abbastanza. Basta. 16.000 angolazioni. Devi farmela vedere. Balzaretti arriva un fallaccio. Ma che cacchio fanno? Ma che cacchio fanno? Cheee. In realtà la Juve gioca in 145. Sono tutti sugli spalti. Vabbè, basta. Basta, ho capito. Avete fatto gol. Basta. Basta. Pjanic. la vodka Kevolevic Manolas per Totti Gervino mamma mia Gervino Gervino per i turbe che non so chi sia tirò di testa pianissimo Pjanic proprio Balzaretti Narghilè se ne va Narghilè con la scarpa in testa Gervino C'è vabbè gli acrobati De Rossi Mamma mia deve fare anche un bugger per prenderla Gervino la filtra per Totti che la filtra per i turbe che i turbe deve essere tipo fratello di Icardi tipo o è un'applicazione per l'iPhone i turbi i carli ah c'è anche Marchigio non l'ho anche visto non uso lascelle questo qua fa a Falgrosso Adriano lì che tanto Adriano è anche stato lui alla Roma per me hanno preso tipo la skin di Adriano l'hanno chiamata Mycon e hanno fatto Mycon adesso arriva un rasoio di quelli non c'è su niente alzati vabbè dai giallo pensavo peggio lui lui non si è fatto male in faccia anche se gli ho beccato una tibia ma vediamo si è fatto chiaramente male in faccia beh forse lì forse lì si è fatto male adesso Totti boom mamma mia traversa palo gol Totti gol si fa anche il selfie non ci credo non ci credo mamma mia De Rossi si fa un selfie anche lui vediamo 7 e mezzo Totti per il selfie e De Rossi 7 ci sta anche Gervinio detto Gervino risultato PlayStation Store gioca un'altra partita dettagli preordina l'edizione digitale ricevi il contenuto esclusivo di MyClub Neymar Junior un giocatore perché se no cos'hai non ce l'hai UEFA team of the year un giocatore UEFA.com Totti 2014 questo era il gameplay di PES e fateci sapere se volete vedere altri contenuti di giochi calcistici per il momento questa era solo una demo quindi le squadre avete visto sono quelle che vi ho fatto vedere all'inizio la grafica per alcune volte i giocatori sono fatti veramente bene altre volte sembrano quasi fatti di Pongo però sì dovrei vederne qualcuno di più quelli della Juventus mi sembrano fatti abbastanza bene a parte Buffon che ha gli occhi da rana però sì direi che in generale ci siamo ecco e quindi niente ciao a tutti e al prossimo gameplay ma perché non c'è l'Inter?